It could be us, so back to what I would say It could be us It could be us It could be us Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su un buon channel Oggi ragazzi Perché mi vedo di con questa schermata? Perché Da come avete letto dal titolo Finalmente Ho imparato a fare le miniature Come fare le miniature? Ve lo spiegherò subito in questo video Allora, voi dovete andare su chom Andare su chom ovviamente ragazzi Aspettate che è proprio tutta un'altra cosa Voi Allora, dovete andare tutta un'altra parte Tutta un'altra parte Tutta un'altra parte Vabbè, faccio in fretta così Andiamo su YouTube Allora, andiamo su YouTube Tutto va bene, va bene Allora, poi a un certo punto Noi mettiamo il nostro canale Ragazzi, ovviamente c'erò me Andiamo sul nostro canale Allora, voi dovete cercare il vostro canale YouTube In questo caso io cerco Bones Channel Cerchiamo Cerchiamo E vabbè, intanto qui è normale ragazzi che fa questo Non vi è arrabbiato Attenzione, eh Mi sto arrabbiando un po' Ok Sta caricando tutto bene Clicchiamo sul nostro canale Vedete che qui ho fatto una miniatura Li ho fatto una miniatura Quindi Adesso Clicchiamo sul nostro canale Dobbiamo cliccare Non so dove Mi sembra che Escano tre puntini qui Voi cliccate E vi dice Mettetevi su Voi collegarti a YouTube Trovamo internet In questo caso Vi dovete collegare A Trom Quindi Una volta fatto tutto questo Cliccate su Questa icona Che trovate qui E vi uscirà Scardia Chiocci La line Rob La vostra email E Mettete questo Mettete Diciamo Il cerchietto Poi Una volta fatto questo Vi Farà questa schermata Allora noi vediamo Vedi Clicchiamo su Vedi le altre informazioni E ci uscirà Questa bella Cosa Edito Video Insomma Ma non è questo Che ci interessa Noi ci interessa Gestione video Cioè La seconda Che si trova qui Clicchiamo su Gestione video E Ci uscirà Questa Esatta Schermata Ok Ci uscirà Questa schermata Noi Cosa facciamo In questa schermata Adesso Io faccio Mettiamo Modifica Voglio modifichere La miniatura Di questo video Una volta fatto questo Stavo dicendo Ci uscirà Questo Aspettate Forse non ve l'ho Fatto vedere Mannaggia C'è la capa La capa La capa Carigati Ok Ci darà Questa schermata Noi mettiamo Modifica Proprio sotto Al video Sotto L'angolino Del video Proprio lì Sotto Adesso Ci darà Queste tre miniature Ma a noi Ragazzi Non ci interessa Assolutamente Ci darà Il titolo Il video La descrizione Eccetera Ma a noi Ci interessa Miniatura Personalizzata Quindi Andiamo su Miniatura Personalizzata Poi andiamo Su documenti Ragazzi Non andate Sul fotocamera E altre cose varie Perché Sembra Una scemita Ci saranno Queste cose Io Semplicemente Per il video Scelgo 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 In questo caso Raga Io mi scelgo Questa qua Di Final Kick Che ho scaricato Adesso Proprio in questo Istante Scegliamo Questo Ok Perfetto Abbiamo scelto Questo Impossibile Compensare La protezione Precedente Memoria Insufficiente Vabbè Memoria Insufficiente Va bene Perché Non me l'ha Dato Memoria Insufficiente Compensare Perché 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 Mennaggia La miseria No raga Cosa sta Succedendo Ok Allora Non so perché Mi ha dato Qualcosa Però vabbè Galleria Va andare Sul galleria Galleria Maledetta Dai Adesso Questo qui Vediamo Questa Ok Ah Tengo la memoria Insufficiente Ok Raga La copertina Si è messa E infatti Eccola qui Proprio la nostra Carissima copertina E mettiamo O sopra O sotto Non cambia niente Salva modifiche Adesso È in corso Il salvataggio Delle tue notifiche Cioè Delle tue modifiche Tutte le modifiche Sono state salvate Se adesso Noi Andiamo a vedere Su youtube L'originale Ragazzi Sull'app Di youtube Andremo A scrivere Il nostro Canale Youtube Bonzo channel L'andremo A scrivere Ci esce La nostra Copertina Del nostro Carissimo Bellissimo Video Un episodio Da godere Fino all'ultimo Bonzo channel Uscito Tre ore fa Quindi Ragazzi Se avete capito Fatemelo Vedere Sotto Ai commenti Di questo video Se vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao